Non solo acquista decisione da prendere, perché cosa succede con altro? Eusebio, andando ad Arcidosso, si trovò per caso nel più bello del caos, con tutta la popolazione indaffarata e concitata intorno alla fonte. Si racconta che quando ritornò, aveva già in testa le rime e in 448, nella bottega del cicalo a canali, nacque lo stornello e la fonte passò alla storia. La fonte dei canali, cantata da Aviano Di Ida, prima voce, accompagnato dagli altri. La fonte dei canali 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 A me lo rubi detto, ma la ponte non dirà. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla, bisogna riscoprilla. Allora il fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla, chiamato di canzella. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla, bisogna riscoprilla. L'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla, bisogna riscoprilla, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Ad un fissile cicano, l'avevo fatta bella, bisogna riscoprilla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.